Facciamo la metafora di scalare una montagna. Se noi abbiamo poca energia incominciamo a camminare e ci fermiamo al primo step, alla base della montagna, magari all'interno di un bosco oscuro. Facciamo l'equivalente della nostra esperienza con la paura. La paura abbiamo detto che è interruzione, prima di tutto. Interruzione del flusso, interruzione del flusso della forza vitale. Quindi più paura ho, più interrompo il flusso della forza vitale, più mi fermo nella mia salita alla montagna, in basso. E quel luogo lì sarà il luogo della paura della morte, per esempio. Sarà il luogo nel quale la sopravvivenza è minacciata. Sono nelle situazioni più estreme, più drammatiche, perché la mia energia è poca. E allora la paura è grande e si indirizza verso la paura di non sopravvivere. Il mondo diventa minaccioso. quindi cosa posso fare io? Posso aumentare il livello di energia se io voglio liberarmi dalla paura della morte. Se io voglio sentire il mondo come amico anziché come nemico. Elevare il livello di energia. Se io non mi occupo di elevare il livello di energia e di conseguenza di curare le mie ferite che mantengono basso il livello di energia. E invece mi faccio guidare da questa paura e mi difendo dal mondo. Diventa evidente che per quanto io possa difendermi, mi chiudo all'interno di una gabbia senza speranza e non circolo vizioso. Tanto più ho paura, tanto più mi difendo. Tanto più mi difendo, anche se diventa efficace questa difesa, tanto più io sono chiuso dentro le mie difese. Se io voglio superare la mia paura del mondo, la mia paura della sopravvivenza, la mia minaccia di sopravvivenza, devo occuparmi di aumentare il mio livello di energia. Quanto meno. E che cosa faccio per questo? Me lo sto chiedendo, me lo sono chiesto. Ce lo chiediamo. Come posso aumentare il mio livello di energia? Perché energia, materia e coscienza sono uno. Ogni ristrettezza mentale nasce da un ridotto livello di energia e quindi un ridotto funzionamento biologico, materico e così via. È un circolo, è una rete. Aumentare il livello di energia è la base per espandere la nostra coscienza e per liberarci dalla paura. È l'inizio. Dovremmo considerarlo un po' di più. Come facciamo disperdere la nostra energia e come facciamo ad aumentarla? Senza l'attenzione a questo difficilmente ci liberiamo dalla paura e difficilmente il mondo viene vissuto come amico e stiamo chiusi dentro un circolo vicioso della difesa e di un ragionamento sul controllo basato su proteggerci, basato su separarci, basato su stare attenti, basato sulla minaccia, sul bisogno di controllo. Aumentare il livello di energia quindi. L'energia è sempre a disposizione. Solo che noi non siamo dove c'è. E anche se siamo dove c'è, molto spesso ci difendiamo, ci chiudiamo e non la sentiamo, non ci facciamo nutrire da questa. Conoscere e padroneggiare le modalità per aumentare e per non disperdere la nostra energia è qualche cosa che dovrebbero insegnarci all'asilo, dovrebbero insegnare in ogni livello di educazione. L'educazione alla padronanza della nostra energia. Ecco una cosa che possiamo fare e che possiamo insegnare a fare.